Ciao, mi chiamo Simona e ho 16 anni. Una delle mie più grandi passioni è il canto ed è proprio per questo motivo che ho deciso di aprire un nuovo canale. L'idea è quella di realizzare cover o darvi qualche consiglio sulla tecnica. Appunto, prendeteli come consigli perché io sono la prima a dover imparare. Studio canto da quando avevo 8 anni ma in questi 8 anni di studi ho fatto alcune pause quindi appunto non sono perfetta, sono la prima a dover migliorare ed è per questo che ho deciso di intraprendere questo cammino con voi per crescere musicalmente ma anche come persona. Circa 3 anni fa ho caricato già un video di canto in un altro canale. Ricordo che era una risposta a un concorso di Clio. Io l'avevo intitolato tutorial di canto e appunto spiegavo qualche esercizio di tecnica, triadi, quadriadi, non ricordo bene. Quel video è ancora online ma è abbastanza imbarazzante. Ero piccolina, impacciata, non che ora non lo sia, però niente, è un ricordo. Credo che lo lascerò anche perché in quel canale ho appunto caricato un video in cui spiegavo che avrei aperto questo nuovo canale. E niente, presto realizzerò quindi delle cover. Ho già in mente quale canzone fare e ho già prenotato la sala di registrazione. È la prima volta che vado in sala di registrazione quindi sono anche un po' agitata, non so bene come funzioni. Vi saprò dire meglio non appena ci sarò andata. Niente, spero che mi seguirete in tanti e un bacione! Ciao! Bene, iniziamo bene! Allora... Stop, fermati! Eh? Fermati, due secondi ferma e poi ricominci. Ok. Creare nuovi video... Aspetta, dove ricomincia? Per... Aspetta, eh? Mi esce il link nel canale in box e un appuntamento più frequente. Spero vi piaccia l'idea, ho detto. Sì. A me ne sia. E se vi va possiamo rivederci con un appuntamento più frequente ovviamente. Ehm... Ho fatto la rima. Eh? Nel canale. Ah sì. Qui. Aspetta. Spero vi piaccia l'idea... No, non posso cominciare. Oh no. Sì. Spero vi piaccia l'idea e se vi va possiamo rivederci per un... nuovo più frequente appuntamento vederci se vi piace l'idea e se vi va possiamo rivederci per un appuntamento più frequente e adesso che andrò a fare eeehm 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 ho già caricato lì un video in cui spiego meglio cosa andrò a fare eeehm perché faccio eeehm ho già caricato per il resto eeehm andiamo alla cassa eeeh nooo Simone aspettila aspetta buono ahahah non risponde nessuno perché hanno rispondito gli auguri del compleanno pronto eeeh ciao zia ahahah amore stop stop tanto non mangi ahahah eeeh 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 eeeh